A sorpresa ci ha raggiunto Lorenzo Palozzi, il portiere della nuova Bagnaia. L'anno scorso la grande avventura con il Vasanello in una piazza caldissima. Quest'anno hai scelto Bagnaia e hai ritrovato ancora più calda anche in trasferta. Insomma, sei amante delle tifoserie. Sì, diciamo che mi piacciono i posti dove c'è gente che ha passione e che segue la propria squadra. Qui a Bagnaia è simile all'anno scorso a Vasanello. Abbiamo una tifoseria che oltre alle partite in casa ci serve anche in trasferta. E questo ci ha sempre una grande mano per il risultato alla fine. Sei stato importante per la nuova Bagnaia. Sicuramente qui all'Ubriano e al Real Teverina non so se sei tanto ben visto perché hai stoppato per almeno tre volte Randazzo. Un bel duello insomma con l'Alessandro. Interventi importanti, una bella partita la tua. Sì, diciamo che anche l'anno scorso è stata una bella sfida e è una sfida che si ripete quasi sempre. Sì, è una bella sfida e è stata una grande partita oggi. Diciamo che siamo partiti un po' a contratti ma alla fine siamo usciti fuori col cuore e con la voglia di fare risultato e di portare a casa punti. Si poteva fare anche qualcosa di più visto alla fine come si era svolta la partita ma diciamo che va bene anche così. Ringraziamo il portiere Palozzi. Buonasera a tutti. Arrivederci.